È una zona unesco, una zona unesco dove le ville Castello, Petraia sono collocate in posizione elevata e quindi le visuali, il fatto di essere delle ville che si affacciano sulla città, delle ville Belvedere, va salvaguardato, è un elemento distintivo della loro bellezza e della loro importanza. Quindi si tratterà, sarà possibile fare il fotovoltaico ma attraverso soluzioni che siano non in contrasto, non impattanti rispetto alla posizione, ai Belvedere, agli affacci panoramici.